Secondo amichevole dell'anno per l'Italia di Andrea Soncini che affronta l'Inghilterra, campione d'Europa e vice campione del mondo. All'estadio nuovo Mirador di Algeciras in Spagna, match subito in salita per le azzurre. Al primo giro d'orologio le inglesi passano, angolo da destra battuto da Greenwood e colpo di testa preciso di Wubenmoy, su cui Giuliani non può nulla. Ancora Inghilterra pericolosa al settimo, punizione da sinistra, pallone in mezzo sul quale si avventa di nuovo Wubenmoy, Giuliani questa volta è pronto a deviare. Allo scoccare del ventesimo l'Inghilterra raddoppia, altro corner da destra, Giuliani respinge con i pugni, Hemp controlla male, ma è fortunata nel rimpallo sul tentativo di rinvio di Galli, sulla carambola il pallone finisce in rete. Trentunesimo si vede l'Italia, Cambiaghi è brava a intuire il retropassaggio di Charles e superare il portiere, tocco per Catena che non riesce a ribadire in porta, ma il pallone era già terminato sul fondo. Minuto 34 arriva il tris inglese, su un pallone respinto dalla difesa azzurra, Stanwy controlla e rimette al centro il colpo di testa di Hemp, si infila nell'angolo alto, nulla da fare per Giuliani. Nel recupero Italia vicino al gol, Cantore è lanciata tu per tu con Herbst, si fa respiro, spingere la conclusione è bassa, prima dell'intervallo arriva la rete dell'Italia, Cantore recupera il pallone e apre per Catena a sinistra, traversone basso preciso per Cambiaghi che d'esterno destro mette il pallone in rete, secondo gol in azzurro per l'attaccante dell'Inter. Ripresa che si apre con l'Inghilterra subito pericolosa, cross di Kelly per l'inserimento di Clinton che di testa sfiora il palo, entrano Salvai per Bergamaschi e Bonfantini per Catena, le azzurre provano a guadagnare campo ma al 69esimo l'Inghilterra trova il quarto gol, James si riceve sulla sinistra, arriva sul fondo e mette al centro, Toon al volo con il destro piazza il pallone alle spalle dei Giuliani, un minuto dopo le azzurre sfiorano il secondo gol, sul rilancio del portiere Cantore si impossessa della sfera e pesca Cambiaghi in aria ma l'attaccante azzurra angola troppo la conclusione, Severini e Serturini prendono il posto di Di Guglia, Elmo e Galli, 79esimo c'è la quinta rete inglese, Bonfantini all'indietro per Giuliani, Deili intuisce il passaggio, dribbla anche Linari e appoggia a porta vuota. Soncini inserisce Girelli e Dragoni per Cantore e Cambiaghi, 87esimo James entra in aria e scarica un destro potente, Giuliani respinge in allungo, poi Hamp non riesce a indirizzare verso la porta. L'ultimo tentativo è Di Caruso che conclude alto dal limite dell'aria, dopo tre minuti di recupero termina la sfida, Inghilterra batte Italia 5 a 1.